Ciao a tutti ragazzoli, bentornati su ATGaming, oggi siamo tornati qui su Spore per la seconda puntata e vediamo un po' allora, sono andato un po' avanti quindi il mio personaggio è cresciuto andiamo su Commandia, il nostro pianeta ok, fase creatura ricombinazione dei vettori evolutivi allora, ho fatto qualche evoluzione già, quindi potete trovare il mio piccolo personaggio già cresciuto e più potente allora, eccolo perché sta andando così di merda? cosa mi chiedo io? why? why vai così di merda, a scatti ok, risolviamo subito, un secondo ragazzuoli ok, rieccoci, ho risolto, il problema era dovuto a Steam che apparentemente mi inculava un puttaneo di banda bisogna adesso, allora dove cazzo vai, testa di minchia vieni con me allora, l'obiettivo è adesso cercare la nostra nuova casa perché devo trovare un altro esserino come me facciamo lo scatto perché devo aggiungerlo al gruppo se no non posso conquistare gli altri diciamo come dire, alieni o creature mitologiche la nostra nuova casa dovrebbe essere da queste parti che cazzo è questo? sto fiume di tabasco che schifo che cazzo di creature so qui? queste varano quelle di coso sì, è uguale sono uguale a quelle di Man in Black intanto ho trovato un corno ciao belle andiamo, continuiamo per la nostra via 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 queste non mi sembrano molto succevoli sotto specie di scime salterine mazza che stanno brutte e poi mi chiedo se realmente quando si è creato il mondo c'erano creature brutte così intanto il mio quando cammina pare che ci accal l'uva ok, questa è la nostra nuova casa bellissima guardate quanto è larga le pareti il legno massello fatta direttamente dalla scavolini intanto prendiamo questo che non so cos'è un'altra bocca oh, è questa figa di bocca quindi diciamo se riusciamo a mettergliela richiamo amoroso vieni bella zaccola sono sempre sei ore prima di poter andare alla schermata perché ogni volta bisogna sopportare questo rituale amoroso ok, adesso cadiamo nel nido un bel uovo yeee sono contentissimo ok, abbiamo le zampe nuove colpo livello 3 invece quelle che ho io quale so? quale so? queste ne so? mettiamo quelle colpo livello 3 oh che cazzo perché? perché me le mette brutte così? oh ma vaffanculo te lascio senza zampe oh allora, se io le metto queste no eh non ci piace una zampe a noi ma perché sto sta a fare così? c'ho la più palida idea vabbè vabbè la te la piano è pure te lascio monco te lascio senza piedi basta ho deciso così vabbè tre po' più corte oh mi sta venendo su cazzo va bene così so orrende però non si merita nient'altro lo sto stronzo e poi vabbè la bocca questa costa troppo ah gli togliamo i piedi cioè gli rimetteremo no neanche togliendo i piedi ci arriviamo però togliamo questo 158 ah beh però la bocca non la dobbiamo togliere 230 oh questa sì che è una bocca possente no col gozzo col gozzo bellissimo col gozzo e lunga così troppo gozzo meno gozzo ok poi i piedi vediamo di rimettergli ah ecco perché perché queste sono le mani io sono imbecille ecco perché non me le metteva no abbiamo solo 33 per i piedi queste sono 75 scatto livello 2 ballo livello 3 eh no 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 preferisco allora togliergli le mani mettergli queste però mettergli i piedi questi così stai meglio eh poi gli diamo un attimo una sistemata perché ok perfetto perfetto ci siamo tutti contentissimi di vedermi nato siiii evviva ok adesso vieni qua tu vieni qua amicizia oh mi serve uno stronzo tu ok perfetto lo abbiamo giunto al gruppo anche lui possiamo andare da 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 stringeremo amicizia con questi gra oh gra gra questi sono grossi il discorso è stringeremo amicizia oppure li uccideremo tutti dai stringiamo amicizia e vieni qua non fa il mal fidato no eh siiii ye 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 cucuracore cu超 manni ecco diciamo attenzione perché noi che sì va bene botte non so perché mi larga così però batte la orbi ma non fate più i fichi eh ma non so perché mi sta laggando tanto così vediamo un po' un attimo impostazioni la mettiamo tutto a medio dai forse si risolve fai un po' più cagare però perlomeno va abbastanza fluido ehi tu vieni che devi uccidere anche te ma non c'è lo uccidilo tutta la specie tutta la specie ma pure ma pure ma pure questo pure che si è amazzo amazzo uccidi scanna e adesso tutti a mangiare un altro pezzetto vuoi un pezzetto di frankie no grazie preferisco quello di gianni arco grazi come eliminare una specie dole al comando wolf da 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 Che cazzo sono Questi sono i procursori delle scimmie Secondo me Allora proviamo a conquistarle questi Vediamo se ci riusciremo Ci credo poco comunque Si vorrebbe un ballo livello 4 Vai vai No mi va bene Vabbè Vabbè Allora ma se la fa già il video Mi se la fa già Io vi do questo non so Ok Ma come voi va bene Benissimo Non c'è problema Eliminateli Ammazzateli 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 3 pro morso 4 pro morso Morso scimmiesco No ma tocca eliminare tutta la specie Vieni qua Vieni qua Vieni qua Oh Non metterli No Non metterli No Fatemi No Non metterli Ammazzateli 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 C'è una vendetta Tremenda vendetta Maledette ciglie Oh che cazzo sono qui Oh Oh Dov'hanno questi Ragazzo correte Questi c'hanno 50 Salute Ma io lascio all'istata Ciao Come è stato un piacere Un piacere nostro Riederci Di 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 Allora di qua è dove abbiamo ammazzato Quei testi di cazzo Ora ci ritorniamo Scatto mortale E gli facciamo vedere che Anche noi comandiani abbiamo Forza e volontà da vendere Cazzo stanno no Forse ho assoluto a ste parti Non mi ricordo il percorso preciso che avevo fatto Eccole Sti cigli Bastardi Ah Siamo tornati a finire il lavoro E sti cigli Ok Buon finito il lavoro Buon finito Adesso Rifociliamoci con la loro carne Mmm buona carne di scimmia Ottima carne di scimmia Ma giù c'è adesso un'altra specie Poi in teoria Allora quanti punti Oddio Che cazzo sono questi Ma questi punti fanno un po' gigante Ma questi sono troppo forti Per il momento Ma che cazzo sta succedendo Oh ma che cazzo è sto fudello Ia No ma se non è meglio Chiomano i meteoriti Via Ia Ma che cazzo sono i culoni mentoni Ma che cazzo di chi ha Comunque mi sta guardando troppo male No ma se mi è questo Questo è incazzato Tutti incazzati qui Quelle poi sono troppo forti C'ho 29 di vita Quelle mi ammennano come le botte Vediamo un po' qui che c'è Sta specie di maialino 15 di vita Ammazzano Eliminate tutta la specie Non ho lasciato Mangiate i loro resti Ok ci sono altri due maialetti qui sotto A morte Vieni testa di cazzo A morte Oh ammazza il maialetto Capito Maglietto è molto giubile Ammazzate il maialone Oramai vado a fuggire da noi Cibatevi della sua carcassa Ok grandi Quanto mi manca questo lì Puttani dei punti Non posso mica stanno andando in giro a eliminare tutte le specie Perché faccia amicizia e ti dà più Oh questi sono cattivi Andiamo Alla battaglia Così impara a guardarmi male Ma c'è un mazzo Ma già gliel'ho eliminata la specie Eh no Grande Ok Siamo una specie predatore noi L'ho fatta carnivora l'ho fatta Quindi Abbiamo abbastanza predatori Una sottospecie di corno Che cazzo Una sottospecie di ali Allora vediamo se riusciamo a stringere amicizia Almeno con questi dai Con questi forse si Forse Ok forse ce la facciamo Dai No Ok grandi Ok Ora dobbiamo impressionare Le altre due Eh no questa volta non ce la pariamo adesso Forse si Forse si Dai dai Cazzo Dai dai L'ultima volta non me l'abbassai Non me l'abbassai Ok grande L'ultima Vieni qua Non fare il testa di cazzo Vai ballate Come non avete mai ballato in via da vostra Grande ok abbiamo trovato un sacco di punti L'ultima allora Adesso il prossimo che troviamo O le eliminiamo Oppure Lo rendiamo amico O guadagneremo punti Oh Bastardi Questi mi hanno ammazzato Una massa Non so proprio contentissimi Deve decce Però dai Proveremo Alle perse Se no L'eliminiamo Non spaccio i cazzo Dai 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 Cazzo No Non l'abbassai Non l'abbassai Non l'abbassai Dai 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 Ok Noi Abbiamo aumentato il nostro cervello Ok Ok Così potremo Potremo evolverci Potremo montare Più parti Cattive Nella nostra Nella nostra creatura Continuiamo Allora Per il momento Almeno non so Cattivi Vediamo se riusciamo A renderci Gli amici E' un tanker Sanno No 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 Questa volta Non ce la faremo Penso Non sono proprio Molto contento Di verci Però dai Provare Non costa nulla Dai Non spaccio i cazzo Ok Dai L'ultimo ballo Non me la zera L'ultimo ballo L'ultimo ballo Non me la zera No Vaffanculo Ma guarda qua Ma guarda qua Non ce la morte Un bel Mh Questi Siano i baffi Vediamo se Questi Riusciamo a Compostare Per questo ci possiamo uscire. No, è di troppo poco. La barra non ci usciremo. Suppostamente abbiamo fino a 3 tentativi. La barra è zero. benissimo 24 in questo momento BATTA DA ARBY oh dai dai schifotte e noi l'abbiamo ammazzata ok il terzo mangiate la loro carne c'è un po' di ganchi che salta il 3 mi manca uno l'ammazzare mozzico mortale non mi puoi scoprire BATTA BATTA ok mangiate la loro carne ok ragazzoni posso concludere qui la seconda parte di Spore con il nostro mitico animaletto bastardo che uccide tutti un saluto a tutti da Commando Wolf non dimenticatevi di mettere un bel mi piace e di iscrivervi al nostro canale un saluto a tutti ciao ciao ragazzuoli ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti